I due giorni della manifestazione sono stati splendidi, innanzitutto perché il numero dei partecipanti è stato elevato, 63 iscritti, e non spesso capita in Italia di avere un torneo così numeroso. Oltre a questo, tra questi 63 partecipanti è anche alcuni che si sono affacciati per la prima volta ai tornei agonesi, giovani o meno giovani, e ci sono alcuni anche pensati abbastanza bene, visto che ci sono stati un po' gli esploi di nuovi giocatori alla ribamma. Abbiamo fatto una manifestazione con 9 flipper in gara, 4 DMD, che sono dot matrix display, 3 elettronici e 2 elettromeccanici. Abbiamo voluto variare anche la tipologia dei flipper per mettere un po' di sale sulla coda anche i campioni di vecchia data. Tant'è che anche, per esempio, in queste fasi finali, anche il campione del mondo, il tre volte campione del mondo, da di lanciare è stato sconfitto da un ragazzone di provincia.